Oggi 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In Puglia è aumentato il numero delle donne assistite dai centri antiviolenza. Per dire basta alla soprafazione a Canosa è stato organizzato un particolare flash mobile, servizio di Alba Di Palo. Hanno indossato calzari di colore rosso, simbolo di quelle scarpe che portano il conto delle donne che non ci sono più perché uccise dalla furia insensata di mariti, compagni o ex ossessionati dalla loro libertà. Sono gli studenti delle scuole di Canosa di Puglia che hanno scelto di scendere in strada per dire basta alla violenza contro le donne. Voi sarete gli uomini del domani, che responsabilità sentite oggi che siete così giovani? Dobbiamo cercare di essere migliori di chi ci è stato prima di noi. E noi vogliamo attraverso questo corte e questa marcia comunicare a Canosa e possibilmente anche oltre Canosa che questo è appunto sbagliato e che è ora di cambiare. Bisogna dimostrare alle persone che fanno magari violenza sulle donne che è sbagliato. Le donne comunque sono persone uguali a noi, cioè non c'è differenza. Indossiamo noi questo simbolo che rappresenta un po' la violenza su tutte le donne. le indossiamo noi perché noi siamo coloro che rappresentano chi ha fatto del male. Quindi noi al posto di questi uomini che hanno violentato, hanno maltrattato, hanno ucciso chiediamo scusa davvero a tutte le donne che hanno sofferto. La manifestazione organizzata con la collaborazione della FIDAPA e il Movimento di Opinione Femminile ha inteso puntare l'attenzione su chi sarà protagonista del domani, sugli uomini del futuro per tentare di ribaltare numeri preoccupanti. In Puglia lo scorso anno gli accessi ai centri antiviolenza sono stati poco meno di 2.400, il 14% in più rispetto al 2019 e il 34% in più rispetto al 2018. Le più esposte alla violenza psicologica e fisica sono le donne sposate o conviventi e nel 58% dei casi hanno un'età compresa tra i 30 e i 49 anni. Sono vittime anche di una precarietà sociale ed economica che le rende spesso silenti. Debellare la violenza si può attraverso l'investimento educativo sulle giovani generazioni e chiedendo agli uomini consapevoli di essere nella spirale della violenza di fermarsi e chiedere aiuto. Alle donne invece l'appello è a denunciare ovunque si trovino. Si può andare nelle farmacie per il progetto nazionale che c'è dove dicendo dammi una mascherina 15-22 e noi partiamo con l'aiuto. Per cui sono qui anche per dire questo da parte degli operatori sanitari. Una mascherina 15-22 può salvare la vita.